Mobilitazione regionale per tentare di fermare a Roma l'emendamento alla cosiddetta manovrina che di fatto renderebbe valido immediatamente il piano operativo preparato da Frattura. Un piano che concretamente distrugge la sanità pubblica regionale con l'unico fine di aiutare ancora di più quella privata, consegnando le servizi e reparti tolti al servizio pubblico come oncologia, cardiochirurgia e neurochirurgia, giusto per fare qualche esempio. Frattura dopo gli stop del Tarmolise su Venafro e sulla Gea di Isernia ha deciso, sicuramente ispirato da qualcuno, di chiedere al governo Gentiloni di far passare il piano operativo facendolo diventare legge dello Stato. Una forzatura legislativa e normativa mai registrata prima in 47 anni di vita della regione molise. Da qui il grido d'allarme di associazioni e politici di tutti gli schieramenti. Dopo la forte presa di posizione di Michele Iorio e Danilo Leva arriva anche il grido d'allarme del forum per la difesa della sanità pubblica che tra l'altro afferma se il post diventerà legge dello Stato, i molisani oltre a perdere il diritto alla salute perderanno anche il diritto alla democrazia rappresentativa. Votare anche per cambiare classe dirigente servirà molto poco, essendo l'80% del bilancio regionale vincolato da una legge dello Stato. Il Consiglio regionale in carica che ha già dimostrato agli elettori la propria sostanziale inutilità ne tragga le dovute conseguenze, visto che sarà dichiarato inutile anche con legge dello Stato. C'è poi Maurizio Tiberio, segretario regionale di Idea, Popolo e Libertà, che dice se approvato non solo in maniera scelerata si rende il commissario padrone unico della sanità regionale, che potrà disporre del 70% del bilancio a proprio piacimento nel settore, togliendo qualunque potere al Consiglio regionale, organo sovrano. Ma si spoglierebbe anche la regione molise di autonomia perché, consegnando i poteri al commissario nominato dal governo, automaticamente si trasmettono i poteri sulla sanità regionale a Roma, un vero e proprio scempio che Frattura sta commettendo a danno del popolo che lo ha eletto, venendo meno a qualunque forma di rispetto verso gli elettori. Per questo motivo, chiude Tiberio, Gaetano Quagliariello, informato di quanto sta accadendo in Commissione e bilancio alla Camera dei Deputati, si sta attivando per fermare quest'atto assurdo di cui il Partito Democratico dovrà rendere conto ai cittadini molisani.